Benvenuti nel mondo degli orologi Boegli. La famiglia Boegli dal 1904 è stata pioniere di varie tecnologie orologere che hanno portato il mondo nell'era degli orologi moderni. François Boegli, fondatore e omonimo del marchio, proviene da questa linea di illustri artigiani. Ma a differenza dei suoi predecessori, aveva come passione la professione orologera della sua famiglia e la musica classica. Questa passione per la musica ha portato François Boegli a creare un marchio di orologi unico al mondo, orologi che suonano. Boegli ha infatti inventato l'orologio musicale, che ha portato la sua azienda a un livello superiore in termini di creatività e innovazione. L'azienda svizzera ha infatti combinato la sua esperienza artigianale nella creazione di orologi con la passione per la musica classica, per produrre orologi di alta qualità che suonano le note di alcuni dei pezzi più famosi di grandi compositori, come Mozart, Beethoven, Vivaldi, Chopin, Tchaikovsky e molti altri. Il segreto dell'orologio musicale Boegli è il suo meccanismo di carica manuale. Una volta caricato l'orologio, l'utente può premere un pulsante per farlo suonare, facendo risuonare le note di una selezione di brani musicali memorizzati all'interno dell'orologio stesso. Questo lo rende non solo un orologio funzionale, ma anche un pezzo d'arte e di intrattenimento. Oltre alla loro funzionalità musicale, gli orologi Boegli sono anche noti per la loro precisione. La precisione è stata sempre una priorità per l'azienda, che ha lavorato duramente per sviluppare un sistema di controllo di qualità rigoroso. Questo sistema di controllo di qualità garantisce che ogni orologio Boegli sia preciso e affidabile. Gli orologi Boegli sono realizzati con materiali di alta qualità, come l'oro, l'argento, il titanio e il vetro zaffiro. Questi materiali rendono gli orologi resistenti all'acqua, ai graffi e alle sollecitazioni esterne. Inoltre, l'azienda offre una vasta gamma di stili, colori e materiali per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Ma gli orologi Boegli non sono solo oggetti di alta qualità e design unici, sono anche un investimento nel tempo. Gli orologi sono infatti pezzi di valore, che possono diventare dei veri e propri tesori di famiglia. Questo perché ogni orologio Boegli è prodotto in edizione limitata e numerata, garantendo così la sua unicità e la sua rarità nel tempo. Per concludere, Boegli è un marchio che unisce la tradizione artigianale svizzera con la passione per la musica classica.